ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video e allora oggi andiamo a parlare di super bici elettriche sono le enduro bike da 3000 5000 6000 7000 8000 9000 watt e allora a grande richiesta perché perché qualche settimana fa ho messo qui su youtube un post dove vi chiedevo se potesse essere un video di vostro interesse e di votare sì o no appunto se questo video andava fatto il posto ha fatto tanto scalpore avete tutti votato sì perciò andiamo a vedere queste super bike qui metto qualche foto e allora innanzitutto posso dirvi ragazzi che sono delle semplici normalissime bici elettriche composte da un motore un elettronica di controllo per il motore ovviamente annesso a questa elettronica di controllo abbiamo la manopola per diciamo l'acceleratore il l'impianto frenante anteriore posteriore un display per andare a vedere tutti i parametri la programmazione chilometri orari trip eccetera poi più è costoso il kit più optional più informazioni potrei avere in questo display cambiano anche i display stessi più grandi più piccoli semplici grandi come uno smartphone che appunto ti danno tutte le informazioni in tempo reale controllati da bluetooth con un'app eccetera 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 poi abbiamo la struttura la scocca il telaio il telaio ragazzi in questa tipologia di super bici elettriche e diciamo vuoto internamente internamente perché perché nella parte bassa c'è il pacco batterie dentro il telaio la scocca interna e diciamo fa alla funzione di un contenitore che contiene il pacco batterie e l'elettronica di controllo anche quella dedicata al motore il motore un bike diciamo standard sta dietro però ci sono alcuni che hanno voluto strafare e ne hanno messi due uno sulla ruota posteriore uno nella ruota anteriore in quel modo ragazzi hai un due per due potenza e coppia sia avanti che dietro però ovviamente oltre al costo che quello che è bisogna stare attenti ecco e già con una dietro bisogna stare attenti e allora io ho fatto qualche ricerca per voi vi posso dire che questi prodotti sono già disponibili alla vendita cioè tu puoi andare sui più grandi store online mondiali acquistarne uno e chi arriva bello pronto assemblato pronto a funzionare o in alternativa se ti piace il fai da te lo vuoi assemblare tu però devi andare prima a ricercarti tutte le varie componenti che come abbiamo detto sono motore annesso alla ruota al cerchio ecco poi abbiamo scheda di controllo del motore perciò tutta la parte di controllo che un buon kit ti danno anche in dotazione in questo stesso kit il display freni tutti i cavi connettori poi c'è la batteria col carica batterie modello buono per questo uso sono le 72 volt ci sono anche più piccole come voltaggio però 72 hanno una buona potenza però che attenzione ragazzi 72 volt parliamo di media quasi alta tensione in corrente continua perciò occhio fate attenzione per quanto riguarda gli altri componenti sono telaio ho preso nota perché non posso ricordare tutto anche i prezzi sellino perché c'è anche il sellino c'è il gruppo ammortizzatore davanti e dietro c'è la parte dove va agganciare agganciata alla ruota anteriore è un prodotto buono ho finito pronto all'uso con prestazioni simile a questo prototipo che io diciamo ho calcolato nel mio foglietto non l'ho trovato ce n'era qualcuno che si avvicinava e stava intorno alle 2000 euro è pronto fatto 2000 anche 3000 poi ce n'erano alcuni che avevano un computer diverso un elettronica diversa che arrivano anche a 4000 euro e allora questo del progetto e le componenti che ho scelto io ruota da 18 pollici ma c'era anche più piccola c'era anche più grande 19 pollici 8000 watt è quello più potente che ho trovato più controller cioè tutto il controller la cavetteria freni computerino computerino digitale bello avrai tante impostazioni avrai tante informazioni in tempo reale display bluetooth perciò puoi anche guardarlo interfacciarlo col tuo smartphone telaio telaio e contenitore perciò lì dentro vai a metterci batteria elettronica tutto ciò che serve metti dentro il telaio a nella parte alta e il foro per il sellino o nella parte bassa a il gancio per la ruota dietro nella parte avanti a il diciamo la struttura per connettere il pezzo diciamo di metallo che vedremo ora che sono ammortizzatore avanti con due pistone ad aria più questo kit che ho scelto c'è anche in dotazione il mollone per dietro cioè sotto e sellino mollone dietro con pistone con pistone ad aria facciamo un po i calcoli ragazzi ruota elettronica di controllo per il motore cioè ruota display tutta la cavetteria 108 euro telaio contenitore 526 euro sellino circa una ottantina di euro ammortizzatore gruppo ammortizzatori davanti e dietro 452 euro batteria agli ioni di litio con celle 18 650 questa nello specifico che ho trovato ragazzi monta celle da 2002 se non sbaglio dicono samsung però non lo so io non non le ho viste non le ho provate leggendo le poche informazioni che riporta il venditore mi so dare questa informazione ed è una 17 s 22p perciò occhio ragazzi ne parliamo di tensioni alte comunque una 72 volt 15.5 ampere ora prezzo 858 euro totale di tutte le componenti che mi sono segnato questo è tutto quello che ti serve per fare l'enduro elettrico da 8000 watt con batteria 72 volt mono motore ovviamente sul retro ammortizzatore sia davanti ad aria che dietro ad aria più mollone è normale che se giri puoi trovare forse qualcosa meglio come prezzi alcuni venditori ti possono anche chiedere le spedizioni su alcuni su alcuni prodotti perché ovviamente pesano ragazzi pacchi sono grandi questi che ho preso io se non sbaglio erano tutti spedizione inclusa perciò con potresti avere già tutto ciò che ti serve per andare ad assemblare il tuo enduro elettrico se vogliamo andare a attenzione manca la ruota anteriore la ruota anteriore basta scegliere una 18 pollici normalissima e vai a sostituirla o se già hai una bici normale con certo ruota da 18 puoi andare a mettere quella però ragazzi non lo so meglio andare ad acquistare una più diciamo rinforzata una fatta apposta per l'off road non costerà poco ma credo torna alla quarantina di euro forse si può andare a trovare poi come altro tutte le componenti sono qui ora il punto interrogativo è mi conviene prenderlo nuovo già fatto assemblato pronto all'uso o me lo costruisco io ragazzi ripeto in commercio ci sono tanti modelli anche finiti però da 8000 watt come motore poi anche su questo punto interrogativo perché perché tante volte i cinesi mettono nelle etichette nei dati tecnici valori poco sopra può essere che non è 8 mila watt può essere che un 6 mila può essere che un 7 mila purtroppo senza averlo in mano puoi fare ben poco niente ragazzi spero che questo video ti sia stato utile sotto di inserisco alcuni link ai vari accessori che ho trovato ai vari componenti che ho trovato nulla toglie ripeto che tu da questi parta con una nuova ricerca e vai a spulciare bene trovare prodotti diciamo un po più economici che hanno diciamo un rapporto qualità prezzo anche buono però attenzione non deve mancare nulla e cerca di prendere prodotti più reali possibili non prendere per esempio motori da 20 mila watt perché ragazzi 20 mila watt già 8 mila sono troppi e forse non reali figuriamoci 20 mila ecco tanto per fatti per farti capire idem ancora con la batteria non prendere batterie che ti scrivono 30 am per ora 72 volt che poi le dimensioni sono piccole dico una batteria già da 72 volt vuol dire che sono 17 celle serie per 22 paralleli sono tantissime celle hanno anche un peso da non sottovalutare e ancora un'altra cosa questa batteria monta celle da 2002 questa stessa batteria fatta con celle da 3500 miliamper ora per esempio le samsung avrebbe dimensioni nettamente inferiori così vado a larghe linee senza fare i calcoli 17 s resta ma a posto di 22 p forse 17 forse 15 p perciò hai quasi dimezzato il peso hai quasi dimezzato le dimensioni di questo pacco batterie da dove rientrare dentro la scocca perciò valuta anche un fai da te per quanto riguarda la batteria ragazzi grazie per la visione mi raccomando iscriviti al canale un mi piace un commento fammi sapere se questo video ti è piaciuto e niente al prossimo video